A riportare la notizia è oggi secondo cui i due si sarebbero detti addio prima di Natale. Prima le voci di una crisi seguite dalle smentite, poi le immagini di lui in vacanza senza di lei, ma con il figlio Nathan Falco. Infine, la notizia riferita da oggi, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono davvero lasciati si legge sul sito, che svela i dettagli della presunta separazione. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati, i dettagli. Secondo il settimanale Oggi, i due avrebbero firmato un accordo di separazione poco prima di Natale presso lo studio dell'avvocato Anna Maria Bernardini de Pace a Milano. Successivamente, Flavio Briatore è partito per Malindi con il figlio Nathan Falco, come mostrato nel video pubblicato sul social dall'imprenditore, mentre Elisabetta Gregoraci avrebbe scelto di trascorrere il periodo festivo con altri amici. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, storia d'amore lunga 11 anni. Lasciò girle l'imprenditore sono legati da 11 anni, sposati nel 2008, hanno avuto un figlio nel 2010. Le voci sulla crisi matrimoniale si inseguono da diversi mesi, va tutto bene aveva però smentito Briatore davanti all'ennesima insinuazione, ribadita anche nel corso di quest'estate, ora le vacanze natalizie separate e l'indiscrezione secondo cui 32 sarebbe davvero finita.